E noi siamo disposti a tutto per scoprire la verità. Vi baccheremo qui a 2000 metri e se il mostro, UPAC, se UPAC è alla ricerca di viaggiatori solitari, beh, noi faremo a casa sua. Abbiamo preparato tutto l'occorrente, tenda, cibo e anche l'attrezzatura che useremo per metterci in contatto con lui. E' meglio, bello, eh? Però risparliamo il fiato. Che è lunga. STOP!